Nello spazio comunale Piazza Forcella prende vita Transit, la nuova scuola di formazione teatrale interculturale a frequenza gratuita per aspiranti attori italiani e stranieri. Ideato dalla compagnia Teatri di Seta e realizzato con le associazioni femminile plurale e di teatrini, il progetto gode del sostegno dell'assessorato alla cultura del comune ed è finanziato da Nuovo Emaie, l'istituto mutualistico che tutela gli artisti, gli interpreti e gli esecutori. L'esperienza di Transit avrà una durata di otto mesi, durante i quali i partecipanti affiancheranno alla formazione e alla pratica teatrale un percorso di educazione e confronto interculturale e si concluderà con una produzione teatrale inedita che vede protagonisti gli allievi della scuola. Abbiamo molta speranza e credo che quando abbiamo detto che a Napoli adesso Forcella è uno spazio mondo della città mondo, non credo di avere detto cose che siano lontane dalla realtà.